Sì, io l'ho dato Gesù Cristo. Il gioiello della lettera agli ebrei ci spiega quello che è il sacrificio di Cristo sulla croce. Gesù lo aveva detto chiaramente. Egli è l'agnello di Dio, sacrificale, che toglie il peccato del mondo. Quindi la sua crocifissione non è un incidente di percorso, come qualche teologo vorrebbe chiamarlo, a cui lui si adatta all'ultimo momento rassegnato, quasi fallimento della sua missione di Messia. La croce è il punto di arrivo a cui egli vuole andare. Il punto di arrivo per il riscatto degli uomini, tutti, dal loro peccato. E questo mi dante proprio la effusione del sangue. Ed egli lo dice, i profeti muoiono a Gerusalemme. Il luogo della contraddizione, del male, ma anche del bene che vince sul male. Ebbene, la lettera agli ebrei fa la teologia di tutto quello che è la storia di Gesù e delle sue parole. E la collega con l'Antico Testamento. Lo collega con tutte quelle che sono i centri e le tradizioni ebraiche. In particolar modo parla della tenda del santuario, o meglio della doppia tenda, e la descrive. Sotto la prima tenda, dietro la prima, c'è la tavola, i panni dell'offerta, il candelabro. E poi c'è una seconda tenda, il Santo dei Santi, Sancta Sanctorum, dove non c'è nulla, perché lì si manifesta la presenza di Dio. E la lettera agli ebrei, San Paolo, dunque, dice che Gesù, per attuare queste promesse di un bene migliore, che sono quelle della vita eterna, e non sono più solamente, dunque, quelle della terra promessa, materiale, qui, su questa terra. Ma è il regno dei cieli. Per attuare questo, passa un santuario, passa attraverso il velo, che è più grande ed è perfetto. Parla del santuario, del cielo, che è quel modello che Mosè vide sul monte, quando poi diede istruzione di costruire, secondo quello che aveva visto, la cosiddetta tenda del convegno, dove ci sono questi doppi veli, in cui veniva riposta anche l'arca. E quando si costruì il tempio in pietra, la stessa tenda, il velo del tempo, del tempio, rimaneva lì dentro, perché il modello rimaneva quello. Ebbene, Cristo passa il velo di un tempio più grande, di un santuario più grande, il Sancta Sanctorum, che è nel cielo stesso. Cioè passa attraverso quello che è il mondo creaturale, nel mondo del sopranaturale, che è Dio stesso. E dice San Paolo, non costruito da mani d'uomo. Con che cosa passa? Passa con un'offerta che non è quella sulla terra, del sangue di tori, di giovenche, sparsi con le cenere per santificare quello che non è santo, ma passa con il proprio sangue, il sangue sacrificale, quello sulla croce. Dunque la comunione fra il figlio e il padre, cioè il figlio fatto uomo e il padre, che porta con sé tutta l'umanità redenta, avviene per mezzo del sangue sacrificale sparso sugli uomini che in questo modo vengono purificati dalle cattive opere della loro coscienza, che vuol dire dai peccati che la loro coscienza riesce a riconoscere. E' un po' difficile per noi oggi accettare questo, perché nonostante sia un'epoca cruenta, vorremmo non parlare di sangue, specialmente di sangue degli animali, ma chissà perché non vogliamo neanche parlare del sangue di Cristo, quando invece tuttora dall'omicidio di Abele in poi viene sparso. E la colpa viene tolta mediante l'espiazione che avviene con lo spargimento del sangue di un giusto però. quindi Gesù raccoglie tutte le morti, il sangue dunque sparso ingiustamente di tutti costoro e ne fa un sacrificio unico per santificare coloro che santi non sono e siamo noi. Sulla croce dunque avviene il compimento di quella promessa che Dio fece ai nostri progenitori Adama ed Eva che il maligno sarebbe stato sconfitto e viene sconfitto con questa obbedienza del Cristo che libera l'omicida fin dal principio dall'omicida fin dal principio libera tutti i fratelli tutti gli uomini noi siamo dunque liberati dalle mani dalle grinfie del demonio perché liberati dalla colpa del peccato che non diventa più un motivo di assoggettamento allo spirito del maligno perché ogni peccato è connivenza con lo spirito del maligno e dunque obbedienza alla sua paternità che vuol dire alla sua fonte ispiratrice e dunque ciò che lui è è così che quando Gesù sulla croce getta il gran grido muore in quel momento il velo del tempio si lacera da cima a fondo un velo spesso grandissimo vero qualcosa di mastodontico si straccia si rompe da solo perché perché finalmente il Cristo è entrato in un santuario quello lo simboleggia il santuario del cielo e ha portato con sé prigionieri cioè le spoglie del nemico ha portato con sé i prigionieri del nemico che lui ha reso liberi e passano attraverso questo velo che è stato squarciato da quel momento in poi esiste la possibilità per ognuno di noi della comunione con Dio essere una sola cosa con lui e esiste la possibilità di rispondere alla chiamata alla santità perché siamo resi santi santificati da quel sangue sparse che noi celebriamo e rinnoviamo continuamente con l'Eucharistia prendete mangiatene tutti questo è il mio corpo prendete bevetene tutti questo è il mio sangue sparso per voi in remissione dei peccati fate questo in memoria di me che vuol dire fate quel memoriale che attualizza per voi l'effetto di quello che è avvenuto allora e vi rende purificati dal mio sangue senza questo non possiamo entrare nel Sancto Sanctor Dio vi benedica